Questa sera a Santa Marina la presentazione del corso Prima difesa urbana femminile. Di che cosa si tratta? Noi come Accademia di Salerno cerchiamo di sviluppare problematiche nel sociale e tra queste una delle categorie delle piaghe negli ultimi anni è quella della violenza di genere sulle donne. Quindi abbiamo creato dei format che presentiamo nei comuni di un percorso basilare per quanto riguarda la violenza urbana. Noi per violenza urbana intendiamo quella violenza a 360 gradi che non è solo domestica ma è in mezzo alla strada, puoi trovarla in macchina, nei centri commerciali, ma soprattutto il corso è diverso dai classici corsi di arti marziali. Non usiamo tecniche di difesa improntate a violenza usando la contro la violenza. Noi lavoriamo molto sulla prevenzione, quindi attività mentali, psicologiche, cerchiamo di ricreare autostima, vincere le paure, vincere anche quelle emozioni negative che una donna purtroppo subisce nel momento di un'aggressione improvvisa. E in più urbana perché cerchiamo di dare dei primi consigli e suggerimenti fisici da adottare in caso di prima aggressione e quindi una conoscenza corporea non sulla tecnica. Anche perché una donna di mezza età che non ha mai fatto sport o arti marziali difendersi da un'aggressione di un uomo all'improvviso è praticamente impossibile. Noi cerchiamo di fare in modo che la donna debba, attraverso un linguaggio del corpo, non essere più vittima predestinata della ferocia verbale a volte degli uomini nei suoi confronti. Chi può partecipare a questo corso? Tutte le donne dai 13 ai 60 anni, proprio perché come ho detto prima non è un corso fisico dove bisogna fare allenamento, non si viene in tute e scarpe da ginnastica. Noi lavoriamo con la borsa, gonna, scarpe con i tacchi. Noi cerchiamo di far vivere nei nostri incontri che chiamiamo percorsi quello che la donna vive giornaliermente nella sua vita quotidiana. Quindi cerchiamo di far prendere la donna la sua libertà nel vivere la sua vita di tutti i giorni senza la paura di essere costretta a sentirsi in gabbia nella società in cui vive. Quando si svolgeranno allora questi percorsi? Allora saranno una volta alla settimana, 5 giovedì ci saranno percorsi di base che il Comune di Santa Marina ha messo a disposizione, anzi ringrazio anche l'intera amministrazione di questo. Quindi dicevo 5 giovedì dal 10 di ottobre, dalle 17 alle 19 più o meno, sono circa due ore di incontro. E con noi c'è anche il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato. Sindaco, quale sarà il ruolo del Comune? È un'iniziativa intanto importante, ringrazio l'Associazione che ha voluto scegliere il nostro Comune per questa iniziativa importante, per la difesa della donna a 360 gradi e voglio ringraziare l'assessore Annalisa Croccia che si è impegnata, ha voluto questo incontro di questa sera e quindi siamo contenti di ospitare questa esperienza per tutte le donne dai 13 ai 60 anni nella sala consigliare a Santa Marina. Dopo la richiesta dell'assessore, dopo aver visto la partecipazione di questo primo incontro pre-podeutico all'eventualità di fare questo corso importante, abbiamo deciso subito che il finanziamento, il contributo di sostegno per fare questo corso sarà tutto dal carico del Comune di Santa Marina. Quindi faccio un appello a tutte le donne del nostro Comune di partecipare questi 5 giorni, 5 giovedì che partiranno dal giorno 10 ottobre nella sala consigliare alle ore 17 fino alle ore 19 ogni giovedì, perché io credo è un momento importante di autostima e di difesa della donna, un momento dove la società spesso la vede in modo negativo, è un momento anche di incontrarsi, di stare insieme, e di apprendere qualche tecnica sia fisica ma soprattutto psicologica a difesa della propria identità e integrità. Quindi il Comune, come sempre, è a disposizione, questa iniziativa la facciamo propria e invito tutti a partecipare a questo corso. Grazie.